Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola, in questo canale si parla di come risparmiare su tutto per quello che riguarda la vita quotidiana, quindi non solo alimentari, ma anche vestiti, bollette, ricariche telefoniche, benzina e di ecosostenibilità. Almeno ci proviamo di risparmio, di riciclo, di musica ogni tanto e di cucina. Oggi vorremmo parlarvi come ultimo video pre-natalizio di come fare beneficenza acquistando, ma intanto prima di tutto te che mi stai guardando e non sei iscritto, iscriviti, commenta, condividi, mettici like, per voi è tutto gratuito e aiuta il nostro canale a crescere, quindi grazie mille e benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi per voi è lunedì 19, fa freddissimo, fa molto freddo, ma d'altronde è giusto anche che faccia freddo, e quest'oggi, come vi ho detto, parliamo di come dare la possibilità di fare beneficenza con acquisti. Alcune catene, tipo la Coca-Cola, ogni anno distribuisce un tot di quello che vende nei suoi prodotti in beneficenza al Banco Alimentare. Ogni anno lo fa, credo, lo faccia anche quest'anno. La Viscas insieme alla Pedigree anche ogni anno dà la possibilità di regalare una parte di quello che acquistano ai canili e gattili bisognosi. Ci sono gli acquisti dei pandori e panettoni che trovate da Eurospin, con la grafica promozionale, quella per la Teleton. Ogni acquisto, ogni panettone e ogni pandorino di quelli nel formato mini garantirà alla Teleton di avere un minimo di guadagno, grazie alla vendita di questi mini pandorini che tra l'altro costano un euro, 99 centesimi, se non è aumentato. Io ogni anno li compro anche semplicemente perché alla fine magari li regali a qualcuno, fai un bel pensierino e nel frattempo hai fatto anche beneficenza. Quindi semplicemente comprando qualcosa che avremmo comprato comunque normalmente o magari che non compriamo normalmente, non è la nostra marca preferita, però riusciamo a fare un minimo di beneficenza. Non togliamo nulla dalle nostre tasche, ma diamo la possibilità al marchio di dare qualcosa all'associazione a cui preferisce dare beneficenza. Di altri marchi al momento non me ne viene in mente, ma probabilmente ce ne saranno anche altri in giro. Se trovate delle attività commerciali di questo tipo, delle promozioni commerciali di questo tipo, io vi consiglio di donare. Poco tempo fa è finito il banco alimentare e è stato un grandissimo disastro. Io non ho potuto donare quest'anno perché lavoravo, ma abbiamo donato alla chiesa locale, quindi abbiamo donato in un altro modo. Stamattina mio marito è andato col bambino a lasciare due cartoni, quelli del Carrefour. Chi fa spesa online del Carrefour sa di quelli cartoni che sto parlando e abbiamo donato alla chiesa locale. Quindi un po' di beneficenza anche quest'anno siamo riusciti a farlo, quest'anno stranamente il calendario dell'avvento non è esistito. Vabbè, pazienza. Abbiamo fatto comunque beneficenza perché noi ogni anno ci teniamo. Quindi lo scopo di questo video è parlarvi appunto del fatto che comprando qualcosa che già comprereste fate anche beneficenza che sotto Natale ci sta senza togliere nulla di tasca per chi non vuole fare beneficenza o non può fare beneficenza. In più per essere gratificati e incentivati nel fare beneficenza questi grandi marchi tipo la Viscas e Pedigree e la Coca-Cola molto spesso quest'anno non ho controllato ci danno la possibilità di vincere anche dei premi o dei grandissimi premi ad estrazione finale. È proprio un incentivare a comprare i loro prodotti e un incentivare anche se in minima parte a fare beneficenza. Quindi il mio video velocissimo finisce qui, vi rinnovo gli auguri di Buon Natale, vi ricordo te che non sei iscritto di iscriverti, di commentare, di condividere, di mettere like per voi è tutto gratuito e aiuto al nostro canale a crescere. Benvenuti nuovi iscritti, grazie mille alla bellissima community che ho di iscritti. Spero di tornare a breve a fare live ma attualmente la mia fisicità non me lo consente quindi accontentatevi dei video che sono anche brevi e più fruibili torneremo a fare live che saranno prettamente chiacchiericce. Per ora il mio video finisce qui e mi appresto immediatamente a registrarne anche altri che so di cui mi sono preparata la mia mini lista qua avanti. Un bacione e aspetto nei prossimi video nei commenti se vi va che a me fa sempre piacere, molto piacere leggervi. Ciao!